Primo giorno, prime ore ufficiali di Marco Sanzovini come neo attaccante del Terramo. La punta romana arrivata in prestito per due anni dal Pescara. Ha firmato oggi pomeriggio il contratto con la società di Via Oberdan. E questo pomeriggio ha effettuato le visite mediche, superate le quali. Sarà un nuovo giocatore di Lamberto Zauli questa sera, al più tardi. Domani mattina raggiungerà i nuovi compagni per iniziare la preparazione. Ironia della sorte, arriva dal Pescara e il Pescara se lo troverà di fronte già domenica prossima nell'amichevole di lusso di Palena contro i Biancazzurri di Massimo Oddo. Ovviamente contento, soddisfatto Marco Sanzovini di aver chiuso questa trattativa che lo riporta in una regione che ama tanto. L'Abruzzo. Marco Sanzovini, prime ore da neo giocatore del Terramo innanzitutto. Sei contento per questa nuova avventura? Certo, sono molto contento, non vedo l'ora di iniziare, se no non avrei trovato l'accordo. È un accordo che abbiamo cercato tutti quanti, io in primis e anche il Terramo. Ringrazio infatti il presidente e il direttore che mi hanno cercato e mi hanno anche aspettato. Con quali motivazioni arriva Marco Sanzovini a Terramo? Con le motivazioni di far bene, di dare il mio contributo, di far bene il mio lavoro, come ho sempre cercato di fare. Senti, questa trattativa a un certo punto sembrava quasi arenata. Che cosa è cambiato in questi giorni? Da parte mia verso il Terramo niente, neanche viceversa, quindi col Terramo non c'era assolutamente niente. Dovevo sistemare alcune cose col Pescara che fortunatamente sono andato a buon fine. In questa squadra conosci già l'allenatore, ci hai parlato? L'ho sentito per telefono qualche giorno fa e poi ne ho sentito parlare. Intanto mi ricordo come grandissimo ex giocatore e anche come allenatore per le buone cose che ha fatto a Sant'Arcangelo. Questa si diceva probabilmente era una scelta di vita per Marco Sanzovini. Possiamo dire che la scelta di vita è una regione in Labruzzo? Sì, ho sposato questo progetto del Terramo e insieme quello del Pescara perché sono andato ad allungare un anno anche con loro con la prospettiva poi di rimanere in futuro qui. Un saluto ai tifosi del Terramo se lo vuoi fare, il primo saluto. Un saluto chiaramente a tutti i tifosi del Terramo, spero di vederli allo stadio in gran numero, ad incitarci. Noi chiaramente daremo il massimo di noi stessi per questa maglia, per dargli tante soddisfazioni. Non vedo l'ora di cominciare chiaramente. Grazie.